Hai capito che noi domani debuttiamo con il nuovo spettacolo, Florida? Giorni di vacanza non te ne avrai potuti dare. Per il bene che ti vuoi, domani lo punza proprio. Domani debuttiamo con il nuovo show. E abbiamo già le piantine del teatro, piene già per un mese. Me Cherie Cherie è uno spettacolo che io sognavo di fare da tanti tanti anni. Ce l'avevo in testa da tanti tanti anni. Ma come tutti gli spettacoli importanti, poi devi aspettare il momento giusto. E grazie a Dio il teatro Bracco mi ha messo a disposizione il meglio per mettere in scena questo spettacolo. Mi ha messo a disposizione prima di tutto il miglior regista che si possa avere perché Gaetano Liguori, secondo me, è il miglior regista che si possa avere al momento. Un rispetto assoluto per il testo, un rispetto per la compagnia, per gli attori. Una capacità di mettere insieme più di 20 persone che chiunque altro ci sarebbe avvilito. Anche perché questo è uno spettacolo molto diverso dal solito. Il meglio per quello che riguarda le musiche, che sono di Marco Mussomeli che ha riarrangiato canzoni edite che sono belle perché il pubblico le canta con noi, non le sente per la prima volta stasera. È il meglio per quello che riguarda la scenografia bellissima di Tonino Di Ronza. È il meglio per quello che riguarda le coreografie di Ettore Squillace con il suo gruppo di ballo, con il suo corpo di ballo che, tra l'altro, a parte questi ballerini strepitosi, è riuscito a far ballare anche noi, che è quanto dire. È una commedia musicale. Io non amo definirlo un musical perché il musical, secondo me, è un'altra cosa. È una commedia musicale con una storia molto divertente ambientata in un locale di drag queen. Che spettacolo particolare, fantastico, meraviglioso, unico sui generis. Per me, che ovviamente vengo dalla prosa comica, brillante, e questo spettacolo, che ovviamente è comicissimo, spettacolarissimo, è uno spettacolo tutto luci, paillette, lustrini, con delle drag queen fantastiche e meravigliose. Saremo in scena fino al 25 di marzo, vi aspettiamo, saremo in scena solo tre settimane, che sembrano tante, perché uno dice sempre, vabbè, stanno in scena tre settimane, poi andiamo. Passano in un attimo. Chiamate il botteghino del Teatro Bracco, il numero è lo 081-564-5323 e venite a divertirvi perché Chery Chery è uno spettacolo per tutta la famiglia, con tante canzoni, tanta musica, tanti colori e tante risate da farvi fare. Voi deciderete di venirlo a vedere con noi. Albracco, Chery Chery, non mancate.